Domenica mattina di lavoro per l'Udinese di Stefano Colantuono, nel Mirino c'è già l'Atalanta, gara del 6 gennaio e quindi non è possibile fermarsi, non è possibile riposarsi per i bianconeri. Subito in campo, partitella contro la Primavera, ranghi misti con gli allievi. L'Udinese di Colantuono ha cercato e sta cercando risposte importanti da alcuni giocatori che devono recuperare da rispettivi infortuni e soprattutto una risposta importante è arrivata da Duvan Zapata. Il colombiano ha preso parte al secondo tempo della partitella, ha giocato a ritmi lenti però è sembrato già in buona forma, è sembrato già pronto per essere disponibile, forse non per 90 minuti, anzi sicuramente no, però perché no, uno scampolo di gara nella prima partita del 2016 per lui potrebbe sicuramente esserci. Non c'era il capitano Totò di Natale, unico assente insieme a Panagiotis Coné, purtroppo il greco non ha ancora recuperato l'infortunio rimedato nella gara contro la Lazio e dovremo ancora attendere un po' di tempo per rivederlo in campo. Altra buona notizia, arriva Tomaerto, il francese si è finalmente rivisto in gruppo, ha lavorato duramente durante la sosta natalizia, durante le feste ed è anche lui pienamente disponibile. Potrebbe anche lui giocare uno scampolo di gara, visto che Mollavaghe è ancora squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il Torino, per cui potrebbe essere possibile per il francese anche vedere il rettangolo verde dello stadio Friuli finalmente da protagonista. Difficile però ipotizzare un suo impiego da titolare e allora è già pronto Ivan Piris che ha preso parte alla gara, ha giocato praticamente tutta la prima frazione insieme a Danilo e Felipe. Si è visto anche Cicciolodi, si è visto anche Emanuele Bado, anche lui è tornato pienamente disponibile, insomma un udinese che sta bene, un udinese che vuole iniziare subito con il piede giusto la prima gara del 2016.